La cucchietta, si, e c'ha piongoccia, piongoccia, ci fai sentire i cd di albano, si, odore di albano, toro, le cisoo! Con le granza bambada, ma con tante parte del toro, non va a nebottare, ma vi vediamo bene. Perché questo è affrodisciato. Ma è davvero un terzo ci parla via? Adesso andiamo qui. Qua dentro che ci sta? Qua dentro? Eh, il pulpo ha firmato. Ah, va bene, facciamo pure il numero. E mi piace il sacco. Poi mi dovete dire, ma non ci tentare? Come si fa quando il pulpo che è nato vi balla? Odentici saponi. Eh no. L'orata saponi.